buongiorno a tutti benvenuti a librixia 2021 primo incontro di questo pomeriggio luciano taffurelli anche le ombre hanno il loro inferno privato calibano editore conduce irene panighetti buono ascolto grazie grazie a librixia per averci concesso questa grande opportunità per questa antologia anche le ombre hanno il loro inferno privato che è un buon esordio e sto citando le parole di un grandissimo maestro per me il migliore del noir italiano massimo carlotto che ha letto questo libro e nel suo stile schietto quindi sicuramente ci credo perché poteva benissimo non scriverlo perché me l'ha scritto e sintetico ha detto che è un buon esordio un buon esordio di un uomo che non è nell'esordio della vita per questioni anagrafiche ma che non sei un ragazzino non sono ragazzi ma per fortuna voglio dire perché hai tanta esperienza anche letteraria adesso dopo cinque sei anni di di apprendimento ma dopo ci torniamo però magari chi ti conosce da tanti anni ti conosce in un'altra veste in una veste musicale di performer di uomo in voltino di art director della festa di radio onda d'urto e di tanto altro è stato un passaggio o ti senti in coabitazione ci racconti un po questo ma è stato un passaggio naturale nel senso che praticamente per dirla con due parole ho solo cambiato oscurità ho solo cambiato oscurità anche da quella della notte musicale a quella delle ombre scritte e le ombre che sono proprio anche nel titolo cosa significa l'ombra l'oscurità per te uomo di lettere l'ombra mi ha sempre affascinato mi sono sempre chiesto se che senso avesse l'ombra cosa facesse e se in caso avesse vita propria se per caso avesse anche un inferno come un paradiso e da qui questo per quanto riguarda il titolo poi per quanto riguarda la scrittura sono pochi anni che mi sono cimentato è stato nel riprendere a leggere nel riprendere a leggere con una certa assiduità a un certo punto mi è scattato il demone l'ombra della scrittura e ho cominciato a buttar giù qualche riga a bozzare qualche racconto partecipare a dei concorsi nazionali più per avere una scadenza perché è importante la scadenza secondo me darsi delle scadenze darsi e rispettarle perché altrimenti ci si può perdere con la scadenza in quel caso come esordiente per me la scadenza era la data finale di questi concorsi che ognuno la sua opinione su questi concorsi non entro in merito ripeto per me erano una scadenza da adempiere ecco è proprio questo è un aspetto che caratterizza anche questa antologia e lo scritto nell'introduzione e cioè che questa antologia e tu la dimostrazione vivente incarnata che scrittrici e scrittori non si nasce il talento magari c'è innato ma se non viene coltivato curato approfondito se non c'è tanto studio insomma detto fuori dai denti non si arriva a diventare donne e uomini di lettere inutile che almeno io non ci crederò mai ma lo disse già il grande leopardi è grande come che si faceva anche tanto tanto studio e tanto rigore e così hai fatto anche tu come appena detto mantenendo le letture continui a leggere sì sì ormai è diventata una costante della mia vita da quando ho ripreso a leggere qualche anno fa perché leggevo molto negli anni 90 e 2000 poi nel diventare professionista con la musica direttore artistico l'organizzazione dei concerti il lavoro notturno in un locale la lettura diciamo l'avevo un po abbandonata stato un episodio particolare questo che mi ha riportato alla scrittura mi trovavo all'aeroporto di berlino con mio amico ilario un aneddoto che ho già raccontato stava leggendo casino totale di jean claudizzo mi ha colpito il titolo conoscevo solo vagamente l'autore me l'ha prestato e da lì è ripartito in mail diciamo così il desiderio di leggere e ho continuato a leggere 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 per quanto riguarda il talento penso che si possa applicare a qualsiasi forma sia d'arte che di sport il talento o anche di musica un musicista può essere talentuoso ma se non si applica se non studia se non ci mette la testa il cuore in quello che fa il suo talento può anche perdersi e non essere espresso luciano questa antologia è composta da un racconto introduttivo e uno finale e nel rileggerlo poco prima questa mattina ho provato sai per la prima volta nonostante sia tipo la decima volta che leggo questa antologia a leggere il primo e l'ultimo e si tengono si tengono non è una cosa che mi sono inventata io scritto così nell'antologia per stilemi che ritornano per situazioni per contesti anche se sembrano molto diversi quindi è proprio un cerchio immaginatelo all'interno di questo cerchio ci sono le due sezioni tutte accomunate dal dark side anche qui il dark side che ritorna ritorna a questo lato oscuro il primo è diciamo influenzato dalla luna anche ci sono un paio di racconti nella prima parte dove la luna ha un aspetto diciamo importante e influenza in qualche modo le azioni degli esseri umani nella seconda parte invece sono proprio le azioni che fanno emergere il lato oscuro di questi esseri umani ecco per cui dark side of the moon citando ovviamente essendo un uomo di musica citando questo album nel 1973 dei pinflo di un capolavoro comunque della musica rock e dark side of the moon dell'umore perché penso che chiunque messo alle strette in una certa situazione può tirare fuori l'ombra e il lato oscuro di quello che per ora emerge nei miei racconti e nei miei scritti all'inizio quando raccontavi a modi aneddoto come come ti è venuto così il ritorno alla lettura e poi l'ha scritto e detto ero a berlino i luoghi la il posizionamento geografico a ritorna ritorna molto penso in tutti i tuoi racconti che sia su marte o che sia a uragomella quartiere uragomella o a berlino come nel caso della spy story spy story poi torniamo su questa sulle definizioni le etichette i generi che possiamo dare ma dopo adesso la domanda era un'altra che introduce poi anche la prima lettura perché vuoi dare a chi legge questo senso di ancoramento di ancoraggio pardon scusate ad una luogo geografico concreto anche se magari non esiste tipo marte o sì no esiste marte però non sappiamo come come mai che che ruolo ha penso che il luogo geografico ha dei ruoli ha un ruolo ben preciso nelle azioni delle persone sono i luoghi dove una persona cresce sono i luoghi dove una persona si relaziona con gli altri influenzano anche il territorio può influenzare e poi perché comunque mi piace raccontare dei fatti che avvengono in territori specifici infatti si parla anche di due situazioni in toscana che sono due situazioni tra l'altro che hanno in comune lo stesso residence non mi imbarazzi quando fai questa ma certo perché sono citazioni alla stefan king un po così tra le righe i luoghi anche i luoghi dove uno nasce è proprio quello che permettimi di svelare a chi ancora non sa bene dove sei nato se sulla terra o altrove un po si vede in private nel racconto di ingresso all'antologia hai voglia di leggerci proprio l'incipit di questo di questo ma si tratta del mio primo racconto sì anche in termini cronologici esatto in quelle zone dominate da zanzari e da insetti furiosi dal nome sconosciuto sar artemis non si era mai trovata veramente bene anche se la casetta azzurra a ridosso dell'argine del fiume apparteneva alla sua famiglia da diverse generazioni disagio ecco la sensazione che ricordava meglio nelle stati trascorse su quelle rive il resto dell'anno invece lo passava con la famiglia nella città che distava non più di un'ora di strada da quei luoghi non solo dimenticate ma anche maledetti dall'onnipotente quando da bambina si ritrovava annoiata a passeggiare aveva l'impressione che misteriosi occhi di chissà quale spettale creatura la seguissero in continuazione sugli argini nell'affitta boscaglia dell'entroterra e su queste chiatte stanche arruginite ormeggiate vicino a riva abbandonate come anziani in una casa di riposo da piccola aveva giocato spesso su quei dinosauri le piaceva correre su e giù da poppa prua cantando a squarciagolo alle canzoni allora più in voga era l'unico passatempo che le piaceva in quelle sonnolenti e torri di estate le chiatte solitarie le facevano tenerezza si sentiva triste per loro e spesso quando la luce del tramonto estivo si incoronava di stupefacenti colori porpuri intonava una ninna nanna ogni sera una diversa per quelle vecchie carcasse nel suo immaginario di bambina quelle canzoncine avrebbero conciliato il sonno notturno alle cadenti imbarcazioni allora questo è l'incipit l'ingresso dell'ingresso del primo racconto privatele privatele mi sono scordata chiedo venia di dire una cosa che dico sempre all'inizio un attimo che dopo le letture o comunque in ogni momento chi ha già letto chi non ha letto dopo aver ascoltato i brani che adesso ascolteremo quello associato o almeno che tu hai associato questo racconto se volete intervenire c'è ci sono vari quattro microfoni addirittura che possono essere portati in sala quindi non c'è problema dovete comunque tenere la mascherina voi voi in sala cosa ascoltiamo ascoltiamo la canzone dei gem del 1979 che dà il titolo al primo racconto grazie a tutti bella musica la musica la musica c'è tantissimo in questo libro non come contorno ma proprio come scheletro ossa tessuto come tessuto narrativo direi la musica a ritmo la musica dal ritmo e io vorrei che nella mia scrittura la musica dasse il ritmo alle parole spesso quando guardo un film la musica ha un ruolo fondamentale sottolinea delle azioni sottolinea degli incontri sottolinea dei momenti veramente intensi però quando si guarda un film lo si dà un po per scontato eppure certe scene condotte per mano dalle canzoni assumono un ruolo fondamentale hanno più spessore vanno più in profondità è questo che io cerco di fare è quello che voglio fare con i miei racconti e anche con il romanzo su cui sto lavorando dare un ritmo musicale alle azioni dei personaggi mari ci riesco magari no ma questo è un tentativo che voglio portare avanti ecco via via con con l'esercizio con le letture ho notato che inserivi sempre di più delle citazioni a volte esplicite a volte no colte o anche meno colte sia musicali sia cinematografiche sia letterarie anche queste entrano a far parte non come orpelli ma proprio come parte integrante della tua narrazione o sbaglio esatto penso che le citazioni ma capita a tutti gli scrittori o ai registi comunque agli sceneggiatori di porre delle citazioni in qualsiasi capitato ieri di vedere questo film dove c'erano delle citazioni piuttosto esplicite su l'ispettore callaghan e direi di sì direi che anche quando si scrive è molto viene viene spontaneo per chi scrive secondo me citare fare delle citazioni non come un orpello ma direi anche per così dare al lettore una un appiglio in più per capire magari quello che sta leggendo non o per dare una chiave di lettura diversa magari non solo all'interno non solo implicite o esplicite nel tessuto narrativo ma le citazioni musicali sono all'inizio di ogni racconto come come lei scelte come a coppi a coppi scusate come hai accoppiato e alcune citazioni hanno dato origine poi a quello che è stato il racconto e in alcuni casi il lavoro è stato inverso una volta finito il racconto mi sono accorto che una determinata canzone una determinata frase di un artista sottolineava bene il mood l'umore che contenuto nel libro contenuto nel racconto nello scritto per esempio sentiamo un assaggio del secondo brano che ci introduce la seconda lettura quindi cambiamo facciamo un'introduzione invece che un'uscita un'introduzione invece che un'uscita e beh c'è anche nel titolo di questo racconto che stiamo per farvi ascoltare in un assaggio della seconda sezione la sezione degli umani quando claudia berri cantava sweet dynamite prima di iniziare la lettura volevo solo contestualizzare il racconto nel pomeriggio di sabato 17 luglio 1976 la città era stata investita da un autentico diluvio e le previsioni per la serata non erano affatto incoraggianti senti bussare alla porta mentre fuori la pioggia continuava a picchiettare furiosamente sui vetri quasi volesse entrare per ridermi in faccia dimostrami che quel giorno le apparteneva mi alzai e abbassai lo stereo posso certo mamma entra pure mia madre aveva 45 anni e faceva l'insegnante di lettere in un liceo era una donna piuttosto robusta e tonica con un caschetto di capelli castane due occhi neri un asino all'insù non ti stanchi mai di ascoltare questa musica chiese sedendosi sul divano e tu invece quella lagna di de gregori risposi ridento lei adorava rimmel e quel disco lo ascoltava in continuazione ma come ti permetti mi rispose fingendosi indispettita de gregori è un poeta non lo metto in dubbio ma il soul ti prende l'anima dissi rimettendo il 45 giri dalla beri dall'inizio poi appoggiai le mani sui fianchi e a tempo di musica spostai in avanti il primo piede il piede destro poi quello sinistro accennando a un tipico ballo da discoteca mia madre scoppiò a ridere portandosi una mano alla bocca non avrei dimenticato quella scena per il resto della mia vita 1976 periodo data scelte così a caso no non a caso assolutamente perché io in quel periodo ero un assiduo frequentatore delle discoteche ancora adesso è un periodo che mi sento cucito addosso erano anni particolari gli anni 70 diciamo erano gli anni di piombo che erano il lato oscuro si può dire mentre c'era il lato più light che era quello delle discoteche quello della febbre del sabato sera che arrivò nel 78 però già dal 1974 in italia la disco music cominciò a diventare protagonista delle serate erano due mondi completamente diversi inconciliabili due mondi che spesso si odiavano entravano in contrasto e io in questo racconto voluto metterli assieme in una serata in una discoteca sul lago di garda ecco il lago di garda anche qui ancora una volta un luogo fisico denominato indicato in maniera in maniera chiara in questa antologia poi vedremo nel romanzo che verrà sono luoghi periferici lasciami passare il termine cioè non è Milano è New York è un po' questa ambientazione che devo dire negli ultimi anni sta prendendo piede nella provincia dove accadono i crimini più efferati giusto per non citare ancora una volta il grande maestro Carlotto come mai perché non ti affascina Milano una metropoli anche oscura che è scerbanenco per dirti non è che non ha maestri sì sì non è che non mi affascini la metropoli però mi piace raccontare dei luoghi che conosco che ho che ho vissuto che ho frequentato luoghi che spesso frequentato nel nella facciata chiara diciamo e che invece vado a a descrivere nel loro lato oscuro tutto qui mi affascinano i grandi metropoli infatti in altri scritti che ho c'è ad esempio questo racconto ad esempio che in teoria dovrebbe essere l'evoluzione di quello che può essere un romanzo non su quello che sto lavorando adesso ma un futuro il protagonista poi da qui da questa situazione da discoteca finisce per abitare a Londra ma questa è ovviamente un'altra storia ecco il protagonista entriamo un po in questa tematica sui personaggi e personaggi come ti vengono ti compaiono in sogno ti mentre vai in moto ti vengono le visioni o ci pensi su magari mentre mentre scrivi addirittura ma ci penso abbastanza spesso tutto il tempo tipo ieri sera guidando la motocicletta così mi è venuto così questa questa espressione che avevo già sentito in una canzone che è anche un bel film noir americano del 48 the night is a thousand eyes la notte a mille occhi parla è un thriller noir psicologico con dei risvolti così paranormali e questa è una citazione con cui voglio iniziare il mio prossimo lavoro quindi lo cambierò per cui sì ci sono dei momenti in qualsiasi momento può venire in mente un personaggio standone in un pub a bere una a bere osservare i clienti può venire in mente un personaggio guardando la statua decapitata qua fuori e viene in mente un po come potrebbe essere successo in una notte brava tra baby gang e già lì parte la storia ti si immagino la persona che ha fatto quel gesto come può essere che background può avere andrà a scuola non andrà a scuola è così che partono le idee sui personaggi dalle cose vissuti dal giornaliero ma anche dall'osservare i comportamenti delle persone un chitarrista che dà una pennata un po più forte sul proprio strumento una parola che dice qualche frase gente che balla un concerto qualsiasi situazione può dare origine a una storia perché secondo me c'è una storia dietro ogni gesto ti è capitato in questi racconti in questi 13 racconti che al momento è il prodotto che c'è che un personaggio più cambiassero nel corso della scrittura in maniera magari anche significativa e tu li facessi cambiare è capitato sì con alcuni personaggi che hanno preso una strada più oscura altri invece l'hanno presa un po più leggera ma capita di cambiare il carattere di un personaggio in corso d'opera l'importante secondo me quando si scrive è avere chiaro la storia dove si vuole andare a finire poi il personaggio può cambiare ovviamente quando ci si cimenta con un romanzo il cambiamento del personaggio è molto più si riesce a descrivere in modo migliore in un racconto invece insomma bisogna essere brevi concisi e diretti e non è affatto semplice cambiano un po in corso d'opera i personaggi cambiano anche le relazioni tra di loro l'ambiente in cui sono anche in questi racconti o sbaglio certo certo cambia se il personaggio cambia cambia anche il modo di rapportarsi con le persone che è accanto col territorio e con le situazioni sicuramente veniamo a un lato se vogliamo curioso poi mi raccomando se avete davvero così curiosità mettere in imbarazzo luciano o discutere sul fatto di quella lagna di de gregorio invece de gregorio un poeta i nomi i nomi come ti vengono certi nomi ai personaggi che a volte sono anche imbarazzanti sono sempre stato sempre avuto un piccolo talento per dare i soprannomi infatti i miei amici del backstage di radio intadurto ogni anno stilano diciamo fanno un promemoria con tutti i soprannomi che io affibio ai vari musicisti alle varie persone alle varie situazioni esistono queste liste per cui mi vengono così prendo spunto magari da persone che conosco e storpio il nome il cognome mi vengono così anche nel romanzo ci sono delle persone che conosco cui ho cambiato il cognome ho cambiato il nome magari hanno qualche cosa della persona che conosci ma che in realtà sono due esseri molto diversi lo dico chi ha letto l'antologia capisce i miei riferimenti che non l'ha letta li capirà così considerando che mi chiamo irene prima all'inizio abbiamo lasciato in sospeso la questione del del genere del genere letterario perché quando mi mi chiedono sì ma che racconti sono che libero è io sono in imbarazzo tu cosa rispondi ma trattandosi di racconti che ho scritto nell'arco di qualche anno i generi toccati sono i più disparati dalla fantascienza l'horror al noir è ovvio che metterli c'è una definizione non è quanto mai possibile direi perché anche quelli di fantascienza possono essere dei noir e quindi cos'è che si può dire dei fantanoir spesso i generi come con la musica si etichettano i generi per venderli meglio poi l'ombra di per sé per definizione non decisamente delineabile non è delineabile infatti è tratteggiata cambia a seconda della luce che anche questo rapporto tra luce ombra l'ombra è legata in maniera vitale alla luce e anche gli esseri umani cioè i tuoi personaggi dei dei tuoi racconti della tua narrativa sono esseri umani di luci di ombre non sono né buoni né cattivi magari sono stronzi o generosi tutto insieme o evolvono lo diventano nel racconto ripeto è difficile far evolvere un personaggio i miei personaggi hanno sì le loro luci ombre un po come tutti alcuni scelgono di far emergere di più il lato oscuro ma direi quasi tutti questi personaggi fanno emergere il loro lato oscuro oscuro ma anche spesso anzi sembra quasi una connotazione del tuo della tua visione dell'essere umano crudele senza pietà a me piace raccontare delle storie per ora mi piace scrivere delle storie sul lato oscuro delle persone delle situazioni delle città poi è ovvio che scrivere anche della luce può essere interessante per ora la mia se vogliamo chiamarla cifra stilistica sta in questo campo beh mariano di un canto del canto dei grilli che magari adesso andiamo a presentare è un personaggio ma crudele psicopatico semplicemente umano crudele lo è crudele lo è nella la sua manifestazione negli atti che compie come poi lui arriva questa crudeltà è tutto un percorso che da psichiatria direi da malattia mentale ovviamente ma è una persona sana è un po di un po difficile tracciare un confine netto una linea netta tra sanità mentale e problemi mentali un po tutti siamo tutti un po spostati certo però non tutti facciamo certe azioni per esempio leggiamo il canto dei grilli mariano si accomodò nell'ufficio al posto del collega controllò che nell'ultimo cassetto ci fosse ancora il suo coltello da caccia mise i piedi sulla scrivania e dopo una lunga sorsata appoggiò il termos per terra a fianco della poltrona quella settimana l'istituto di vigilanza per il quale lavorava lo aveva destinato alla custodia notturna di una grossa fabbrica di componenti per l'elettronica dove nell'ultimo mese si erano verificati alcuni furti poiché si trattava di un buon cliente era stata decisa una sorveglianza armata continua per 24 ore abituato al lavoro di urno all'esterno di una banca mariano aveva mal digerito il nuovo incarico sul video di una delle telecamere apparve manuele pellino stava illuminando con una torcia all'interno della sua macchina di servizio come in un film mariano osservò l'uomo muoversi attorno alla vettura guardare con interesse sotto la parte anteriore dell'auto e appiattire il naso sul finestrino del lato passeggero vecchio idiota pensò ricomponenzosi sulla poltrona ed estrendo la pistola d'ordinanza che nascose dietro un monito lontano da occhi indiscreti ma portata di mano la scarabiniere sparì dalla vista delle telecamere per apparire poco dopo nell'ufficio mariano fece finta di cercare un'altra stazione mentre alla radio la voce di battisti sussurrava ancora tu non mi sorprende lo sai i due uomini si guardarono studiandosi bella questa canzone di lucio battisti disse manuele notando il nervosismo del collega sono tornato per dirti che ho controllato la tua automobile di servizio sai che vogliono che le teniamo in ordine e la tua non mi sembra proprio conforme gli standard ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente ma tu che smetti alle tre poi torni a casa da me tu che non senti più niente mi avveleni la mente un filo azzurro di luce scappa dalle serrate e cerco in vano qualcosa da inventare in mutando un'automobile passa e una mosca vola bassa mi ronza gira gira ma sbaglio la mira vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio darsi a rubacuori ma io come giuda so prendermi nuda la strada conosco a tirarti nel bosco a tirarti nel bosco a tirarti nel bosco questa canzone risuona nella testa di questo Mariano è un'ossessione, è un fischio che non lo lascia perché non c'è un perché penso che faccia parte della malattia mentale che inizia a sviluppare dopo la situazione familiare che lui stesso ha creato quindi lui è vittima di se stesso la moglie per fortuna riesce a andarsene prima che la situazione per lei degenere in modo definitivo questa canzone era gli risuona in testa perché la moglie era nel tentativo di riconciliarsi gli aveva regalato il cd di Fiorella Mannoia contenente questo brano degli anni 80 per cui lui identifica questa canzone come la causa dei suoi mali e lui la sente in continuazione anche quando alla radio ci sono Brown Sugar dei Rolling Stones ancora tu di Battisti o quando c'è la canzone di Nitro e Salmo c'hai ragione lui continua a sentire questa canzone è un po' una metafora su chi non vuol vedere chi non vuole accettare come sono le cose davanti ma continua a perseguire nella sua mente una cosa tutta sua senza ascoltare è un po' questa la metafora che si cela dietro questo racconto ovviamente molto duro molto cupo molto violento con un personaggio quasi tutti i miei personaggi hanno avranno un seguito perché mi piacciono però per dare un seguito a questo personaggio dovrei entrare un po' nel soprannaturale alla Stephen King non è detto che non ci riesca ovviamente dato che siamo già nella seconda parte cronologicamente parlando di questo incontro e che evidentemente ci tieni molto e fa parte insomma dei tuoi piani futuri e te lo auguro stai già lavorando ad un romanzo quindi un genere diverso che cosa ci puoi dire di questo e perché in realtà questa antologia non doveva esistere cioè tu hai iniziato con un romanzo poi se il mio inizio letterario doveva essere l'esordio con il romanzo su cui sto lavorando che tra l'altro dopo essere arrivato a 200 pagine di quel famoso romanzo che avevi letto anche tu l'ho cambiato completamente adesso vabbè sono a buon punto è un romanzo direi non so potrebbe entrare nella sfera del noir è ambientato in una grossa metropoli del nord una Brescia che però non viene citata sullo sfondo c'è il centro il centro storico prigioniero delle baby gang della musica trap dalle canzoni cantate a squarciagola sulle scale sulle scalette di via portapile da ragazzine che cantano baby k e su questo sfondo si innesta una storia di un giovane rapper che si mescola con dei facendieri del uno smaltimento di rifiuti illegali e omicidi legati al controllo di un certo territorio ecco su questo sfondo e la musica la musica fa da collante per questa che è anche un viaggio nell'amicizia fra questo collaboratore investigativo che ha passato i 40 questo giovane rapper di 20 anni che sono diventati amici per via dei trascorsi in un locale notturno del protagonista e che affronteranno queste situazioni a ritmo di musica rock ma di molta molta musica rap e trepo urban pop come si ama definirla adesso questa nuove proposte musicali che arrivano da ragazzetti e anche l'hai già anticipato alcuni personaggi che evolvono che cambiano o comunque personaggi scusate dell'antologia che ritorneranno esatto c'è anche un dovevo uscire in questa antologia di scrittori bresciani che per il momento è in stand by ma che c'era una prefazione di Emilio Del Bono e anche un racconto di Silvano Agosti per il momento è stata bloccata per questioni editoriali e c'era il seguito appunto di quando Claudia Berry cantava Sweet Dynamite l'evoluzione un po' del personaggio questo Paolo ti faccio una domanda poi ti lascio il tempo per rifletterci perché ho deciso di uscire da un po' dal seminato che avevamo concordato e di fare una lettura io di quel del del racconto che tra l'altro è anche breve che io preferisco tutto sommato ho capito che è il mio preferito la domanda è tu hai tra questi mi rispondi dopo prima leggo e poi mi rispondi tu hai tra questi dell'antologia un racconto preferito o uno che ti ha causato particolari problemi con te stesso nella stesura tra un momento mi risponderai Amore a prima svista che è anche qua il titolo lasciamo in sospeso citazione la vita spesso è una discarica di sogni è un brano dei subsonica tratto da corpo a corpo tratto da terrestre terrestre tenete bene in mente questa parola sono prigioniera in una luce abbagliante una condizione simile a quella che gli umani chiamano morte con la differenza però che trascorso il periodo di quarantena variabile a seconda della pena inflitta posso tornare alla vita il mio crimine da cacciatrice essere diventata preda ero a Roma e mi stavo godendo l'ultimo sole autunnale sorseggiando un espresso di fronte alla stazione Termini osservavo le persone affrettarsi velocemente verso le loro destinazioni io non ne avevo una precisa osservavo sceglievo e poi seguivo il mio obiettivo aspettando il momento propizio il mio terreno di caccia preferito erano i treni la seconda classe offriva degli spuntini più succulenti così tante persone piene di sogni quelli infranti poi avevano un sapore sublime come un risotto ai tartufi cucinato da uno chef stellato delizioso eh questa donna questo vampiro questo essere questo essere che si nutre di sogni che si nutre di sogni altrui di sogni altrui perché privati dei sogni non si ha nulla forse forse anche se i bisogni mi ricordo questo concerto di metà anni 80 proprio in piazza nell'85 questo gruppo pancarcorto rinese in negazione che esordirono così sogni e bisogni dei sogni puoi anche farne a meno ma quando non hai più bisogni sei finito beh una frase che mi è rimasta impressa io però l'ho cambiata perché io penso che i sogni siano il motore che ci spinge a verso i nostri traguardi e tu in quale racconto di questi hai lasciato il cuore se hai un cuore venere senza pelliccia mi affascina molto il doppio il dualismo e qui devo dire mi ha parecchio influenzato un libro di Katie Hacker di parecchi ma tantissimi secoli fa l'impero dei non sensi in cui si parlava di un droide metà maschio e metà femmina che andava attraverso una serie di esperienze paradossali in un contesto in un futuro distopico direi che questo è rimasto molto impresso ma è questa questo fascino del doppio dell'essere due persone completamente diverse all'interno dello stesso corpo mi affascina direi che venere senza pelliccia è nato in questo contesto ho deciso di non chiederti quello che è più problematico lo scopre chi ti conosce magari lo può intuire una volta letta l'antologia vedremo anche perché ci tenevo a chiudere chiudere io se poi ripeto c'è ancora qualche minuto per eventuali domande interventi o curiosità sulla copertina perché non è così una copertina a caso scaricata da internet certo che no è una copertina di un mio carissimo amico che fa fumetti Sergio Filippini che adesso è a scuola quindi non ha potuto essere presente direi che rappresenta bene quello che è lo spirito di questa antologia una figura femminile sullo sfondo una provincia che lascia intravedere delle ombre ecco perfetto semplice perfetto e dritta al punto la luna e tante ombre la luna e tante ombre per questo anche le ombre hanno il loro inferno privato di Luciano Taffurelli se volete acquistare il suo libro lì fuori c'è che lui vi può fare una bella dedica se ha voglia se gli viene se è ispirato però ci lasciamo vi lasciamo oltre che ringraziandovi naturalmente dandovi appuntamento alla presentazione del romanzo con un brano o più brani così che c'entrano ovviamente con l'antologia grazie a tutte a tutti e a LibriXia grazie a tutti grazie a tutti